Musica Ospite in studio Bruno Karenini, esperto di relazioni internazionali. Buonasera Bruno. Buonasera, tutto bene? Tutto bene, devi dicerlo tu perché hai le ultimissime informazioni di queste elezioni che sono non solo le elezioni presidenziali americani ma sono importanti anche per le sorti del tutto il nostro mondo. Direi che nelle ultime ore c'è molto fuoco, molti fuochi artificiali accesi, infatti dovevamo occuparci dei programmi dei singoli candidati ma abbiamo dovuto dare spazio in realtà anche alle informazioni che sono arrivate negli ultimi giorni. Parliamo però dei rapporti con l'elettorato, ho proprio una fonte aggiornatissima che è la Real Politics, quella che fa un mix di tutte le maggiori società di sondaggio e vi do qualche numero per cercare di capire come siamo messi. Trump ha il 73% dei voti degli uomini, di cui il 58% bianchi, ha il 12% del voto femminile, quindi praticamente quasi nulla, di cui il 9% bianco, ha il 48% dei voti dei giovani, di cui il 39% dei bianchi e questo già fa capire quanto lei sia importante nelle minoranze o sulle persone di colore, ha il 57% del voto degli over 60, di cui il 52% bianchi. Ma veniamo ai dati più importanti, sulla middle class Trump riscuote il 61% e sugli indecisi che invece sono orientati, però hanno ancora un po' di indecisione ma sono orientati, lui ha il 63%. La signora Clinton ha il 27% del voto maschile, ha l'88% del voto femminile, il 52% del voto giovanile e il 43% degli over 60. Sulla middle class ha solo il 39% e gli indecisi orientati 37%. Oggi il sondaggio nazionale si attesta all'11,50, quindi ha perso mezzo punto percentuale. Se però pensiamo che in realtà a fare la differenza sarà la differenza e questi indecisi orientati appartengono nella maggior parte alla middle class, qualche rischio di qualche preoccupazione c'è. Io non sono molto d'accordo con quello che alcune testate hanno scritto dicendo che lei vincerà a valanga, la trovo più una mossa pubblicitaria e in campagna elettorale, credo che qualche problema ci sia, probabilmente vincerà ma non esattamente in così larga misura. Dico che uno degli stati che era indeciso, l'Ohio, è praticamente nelle mani di Trump, mentre fino all'altro giorno era stato inserito tra quelli indecisi. Gli stati in bilico, lo ricordo, sono la Pennsylvania, il North Carolina e la Florida. Ma adesso veniamo alle notizie, quelle che in queste ultime 48 ore stanno chiaramente creando il pirotecnico. Il Washington Post, che da sempre è stato contrario alla candidatura della signora Clinton, ha reso pubbliche ancora le famose mail segrete e in queste mail ha scelto proprio quella dove ci sono gli elenchi dei finanziatori della campagna elettorale. Bene, che cosa hanno scoperto gli americani? Che il 70% di questi soldi della campagna elettorale sono stati dati solo da 9 persone. Questo significa, con nomi e cognomi, che qualche rischio democratico comunque c'è ed è stato sicuramente un sollievo per Trump che oggi ha iniziato ad attaccare e fra questi finanziatori abbiamo il maggior finanziatore delle lobby ebraiche, quindi capiamo già dove andrà la politica estera, una coppia di grandi magnati delle telecomunicazioni, una coppia novantenne marito e moglie che sono proprietari della maggior catena alberghiera mondiale. Abbiamo poi l'industriale che è il maggior finanziatore di tutte le campagne sui diritti umani LGBT, dove sapete che lei comunque ha un serbatoio di voti molto importanti. E però dentro questo elenco di finanziatori compaiono anche Arabia Saudita, Qatar e paesi che, come sappiamo dalle ultime notizie degli ultimi mesi, non hanno certo rapporti con il discorso del terrorismo e finanziamenti sotto banco. Come ho detto, questo ha dato grande sollievo a Trump, il quale ha attaccato fortissimamente, ha ripreso i toni di Bernie Sanders dicendo come può difendere la classe media un futuro presidente che in realtà si appoggia a persone straordinariamente ricche. Quindi questo argomento è tornato alla grande. Che cosa devo dire? Che ieri sera lei in Pennsylvania è stata duramente attaccata e contestata e se n'è tornata in aeroporto, è salita sull'aereo ed era veramente molto molto indispettita. Devo dire che le decisioni del suo quartiere generale e quindi della sua campagna elettorale puntano oramai sull'elettorato indeciso. Quindi lei non andrà più negli altri stati, ma punterà esclusivamente da ora in poi, negli ultimi giorni, a viaggiare negli stati indecisi. Ho ancora la notizia più importante, che è quella di oggi, cioè il massiccio attacco che Trump ha fatto questa mattina dicendo che il rischio di una presidenza Clinton porterebbe a una terza guerra mondiale in quanto lei è molto aggressiva e soprattutto ha pessimi rapporti con la Russia. Quindi Siria, Iraq, Russia e Afghanistan e sottolinea come i suoi rapporti diplomatici siano tesi anche con la Turchia e con l'Egitto, dove sappiamo la famosa primavera araba, ha avuto anche una complicità in quel momento la signora Clinton era segretario di Stato. Chiudo con delle piccole curiosità, se mi permetti ancora un secondo. Diciamo che la signora Clinton è molto superstiziosa, questo non lo sapevamo e pensavamo che una persona magari con questa intelligenza non lo fosse. È molto superstiziosa, pensate che non mette appuntamenti in agenda per esterne il giorno 13 che in America porta sfortuna. Oggi senza notizie stampa, devo dire che è comunque ancora in Pennsylvania, le agenzie non l'hanno scritto, ma è da questa mattina presso i quartieri più malfamati, ha voluto visitare istituti per ragazze e madri e presso i maggiori centri di recupero per disadattati, oltre che la Confederazione internazionale. Nei prossimi giorni parlerà moltissimo di ambiente perché dopo la distanza e le liti con Al Gore si è riavvicinata notevolmente e il tema dell'ambiente tornerà sicuramente di attualità. Un'ultima cosa che è proprio un pettegolezzo raccolto all'interno del quartier generale, non ha assolutamente intenzione di proseguire a curare l'orto di Michelle Obama e vedo già il vecchio Bill Clinton a dover zappare l'orto. Quello era stato un po' il simbolo della rottuna, forse anche un po' di un simbolo perché si sa che Michelle comunque è donna forte e lì c'era qualcuno che... Ultimissima considerazione, la prima insomma, pare che Trump abbia rapporti diplomatici, non lo sapevamo fino ad oggi da quello. La seconda questione, come mai la stampa che in America comunque si è schierata apertamente a favore della Clinton? E proprio il Washington Post ha tirato fuori questa bomba? Beh, innanzitutto perché da sempre il Washington Post è comunque un quotidiano di destra, non ha mai gradito la coppia Bill e Hillary e quindi ha aspettato proprio gli ultimi giorni, visto che lei sta spiccando il volo, per dare un bel colpo e devo dire che l'asse è stato veramente molto forte perché qualche pensiero, comunque qualche riflessione, qualche indeciso sicuramente c'era fatta. Ecco, l'ultimissima considerazione, ricordiamo che il sistema elettorale è particolare in America per cui gli stati che contano sono quelli con più grandi elettori, fra quelli che hai citato, quale potrebbe essere effettivamente quello decisivo? La Florida, la Florida certamente, però dobbiamo anche dire che la Florida ha anche moltissime minoranze e quindi credo che alla fine lei dovrebbe farcela. Il problema unico della Florida è chiaramente il reddito pro capite, in quel caso è abbastanza medio e questo potrebbe preoccuparla. La preoccupazione di chi segue lei in campagna elettorale, gli esperti, gli strateghi è proprio questa, però in realtà è la Florida, lo Stato, che sarà un po' la chiave di tutto questo. Bene, io ringrazio tantissimo Bruno delle sue news che comunque contribuiscono anche ai nostri telespettatori a diviare quel quadro complesso di cui se ne parlerà sempre più nei prossimi giorni e sempre nei prossimi giorni tu sarai con noi fino a venerdì in Italia e poi... Esatto, anche lunedì, venerdì e lunedì. Benissimo e poi dagli Stati Uniti per aggiornarci su questa sfida politica che ha dei risvolti molto importanti anche per la nostra piccola Italia. Grazie, grazie a voi.